Passiamo adesso alla politica. Prima uscita ufficiale dei cinque candidati a sindaco del Movimento 5 Stelle per l'arrivo in città del deputato Roberto Fico, presidente della commissione di vigilanza della RAI. Vediamo. Un ingegnere, un consulente informatico, un operaio, un imprenditore e una funzionaria pubblica. L'identikit dei cinque eletti a candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle parla chiaro. Per quasi tutti si tratta della prima esperienza politica ufficiale. Qualcuno magari ha militato nei comitati. Come Adriana Pagliai, 59 anni, funzionaria in provincia. Per lei le battaglie più sentite sono state l'inceneritore e i rifiuti. Per Prato dal suo punto di vista c'è bisogno di un'urbanistica meno invasiva, più verde, una viabilità più snella e un ambiente più salubre. Più conosciuto Fausto Barosco, già candidato 4 anni fa nel 2009 alle precedenti amministrative. Il 42enne imprenditore ha ben chiaro la direzione del suo impegno. Far sì che la politica e le grandi scelte su temi importanti per i pratesi passino dalla partecipazione dei cittadini non vengano più calate dall'alto. Su innovazione e spazi verdi punta invece Paolo Alongi, 45 anni, ingegnere e ricercatore in una società che lavora sul turismo innovativo e solo da un anno impegnato attivamente nel movimento. Il più giovane è Gabriele Pecchioli, 25 anni, in tasca alla qualifica di consulente informatico. Per Prato vorrebbe puntare sulla tecnologia per portare sviluppo e occupazione anche giovanile. I candidati, insieme al quinto Daniele Baldi, 44 anni e operaio, si confronteranno questo mercoledì alle 21 durante la prima delle due graticole su temi diversi. La prossima votazione prima del ballottaggio si svolgerà il 25 ottobre e potranno partecipare anche i simpatizzanti del movimento. Intanto durante l'incontro a Prato Roberto Ficollo dato il processo partecipativo compiuto fino a qui, dai cittadini pratesi. Stanno facendo un lavoro straordinario tutti i ragazzi di Prato, il movimento di Prato, perché fanno tre livelli di step di partecipazione fino ad arrivare a far scegliere a tutta quanta la cittadinanza il candidato signato che la città pensa più adatto. Fanno un percorso partecipativo, secondo me molto buono e oltretutto si arriva alla fine a votare nei Cazzebo, nei vari quartieri della città senza pagare un euro.